Peggy 3 Come diventare il tipo più figo della scuola in poco tempo? Semplice Con la reputazione Esci con gli amici tipo lui O lei O perfino lui E fatti notare Ma non esagerare Partiamo con le basi Prima vestiti per fare colpo E poi entra a scuola La mattina è come un campo di battaglia Perciò non devi morire E dopo tutto questo Si entra in classe naturalmente Siediti in fondo E preparati per il passo successivo Ovviamente La prof inizierà a interrogare E quando chiamerà qualcuno Lui in questo caso Alza la mano E assicurati che vada a dire a chiunque Che ti sei offerto volontario Ed è così Che ti fai strada nella storia E ti guadagni un caffè alle macchinette Oh Spidey bell Spidey bell Swinging through midtown Oh what fun To sling a web And take the bad guys down Spidey bell Spidey bell Quipping all the time Oh what fun To swing around New York Wild Body Grime